buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo un prodotto particolare che è la prima volta che recensiamo qua su Revotech è uno specchietto retrovisore magico penso che lo intitolerò così il video è magico perché da un semplice specchietto retrovisore premendo il pulsante lui diventa uno specchietto retrovisore poi togliendo qui la pellicola opaca lui ha un effetto specchiato una volta che è spento ma ora per fare il video è meglio avere la pellicola opaca così riusciamo a meglio a vedere il display display che attualmente ho messo al massimo della luminosità allora come vi dicevo lui è uno specchietto quindi quando voi lo spegnete cioè premete il pulsante qui sotto lui diventa un vero e proprio specchietto retrovisore che si va a posizionare davanti a quello presente nella vostra automobile oppure se siete più smanettoni fate smontare quello della vecchia automobile fate mettere questo per alimentarsi usa una usb c collegata all'accendisigari ma se avete un po di manualità potete anche collegare questa usb c alla luce di cortesia presente nella vostra automobile e così non avete un filo che vi scorre e vi arriva alla presa accendisigari secondo me è la soluzione migliore quella cioè attaccarlo al vostro specchietto retrovisore alimentarlo dalla luce di cortesia senza avere il filo che cammina in auto oppure fate camminare il filo nell'intercapedine in modo tale che non si veda questo decidetelo voi magari lo fate vedere ad un elettrauto allora lui infatti funziona solo se collegato non ha una batteria propria non ha una vita propria nel momento in cui si accende si collega automaticamente ad android auto se voi la prima volta l'avete collegato via bluetooth quindi bluetooth del vostro smartphone si collega al bluetooth di questo specchietto chiamiamolo così e di conseguenza sia che a voi abbiate un iphone e si collegherà a carplay sia che voi abbiate android auto e abbiate uno smartphone android si collegherà ad android auto via wireless quando si accende si collega e quindi voi potete riprodurre la musica se la volete riprodurre oppure potete ad esempio utilizzare maps presente su android auto sfruttando il gps dello smartphone lui non ha il gps integrato questo sia sia chiaro adesso possiamo anche uscire da android auto tanto è un qualcosa che noi tutti conosciamo spero ecco qua questa è la schermata principale dello specchietto di strovisore magico come lo chiamo io qua se vogliamo tornare su android auto lui andrà automaticamente su android auto qui ci sono le altre funzionalità questa è importante perché dice ma tu l'audio di android auto o di maps che dentro android auto come vuoi farlo sentire al guidatore puoi usare gli speaker lui ha degli speaker integrati di discreta qualità puoi collegarlo al bluetooth della tua automobile però la tua radio deve deve essere dotata di bluetooth non deve essere di quelle vecchio tipo senza il bluetooth oppure la soluzione che funziona sempre qua gli dai un canale fm lo stesso canale lo imposti sulla radio della tua macchina se ancora la radio fm a quel punto tutto l'audio passante per android auto andrà a sentirsi nelle casse della radio attraverso sfruttando il modulo fm questa è una soluzione che funziona sempre oppure abbiamo la soluzione via cavo cioè collegate il cavo maschio allo specchietto l'altro l'altra entrata maschio alla radio della vostra automobile e in quel modo voi sentirete l'audio in macchina quindi tutte le soluzioni sono sono pronte la luminosità l'ho già messa al massimo queste sono le uscite poi vi voglio far vedere le ecco qua le opzioni vedete sono tante non tantissime mettiamo insieme la lingua italiana ecco fatto è diciamo tradotto bene ma non non è non è sicuramente una traduzione perfetta è molto veloce perché lui non ha di base un android 13 12 lui ha un linux e quindi viaggia viaggia bene viaggia spedito chiaramente non ha un play store non potete installare youtube non potete installare netflix ma dovete solo utilizzare android auto sopra c'è l'alimentazione il cavo per la e scusate la spinotto per la retrocamera che non è in dotazione la sd serve solamente a registrare quello che viene catturato dalla dash cam non non potete mettere nsd musica e video e la porta aux è quella che serve al per l'uscita audio sotto c'è il pulsante che serve a spegnere lo specchietto a farlo diventare specchio retrovisore lateralmente non c'è nulla dietro c'è il pezzo forte perché c'è vedete una ottima dash cam che può essere anche spostata adattata alla vostra automobile poi qui c'è una cassa non una cassa audio non indifferente l'audio è è discreto e qui ci sono gli attacchi per per attaccarlo al vostro specchietto o attraverso questi gommini in dotazione che vanno così ad attaccarlo allo specchietto oppure sono in dotazione degli quattro adesivi poi c'è questo strumento che sostanzialmente serve ad alzare le plastiche e far passare il cavo non serve ad altro quindi se voi volete nascondere il cavo sotto le plastiche lenti al capedini potete usare questo qui che non ve le rovina è sicuramente un tocco un tocco di classe in altri specchietti come questo in confezione troviamo la retrocamera oppure anche la micro sd già pronta per essere utilizzata in questo in questa confezione non era presente né la sd né la retrocamera è vero che molti di voi della retrocamera non frega nulla quindi è anche inutile pagarla le istruzioni sono quelle generiche del dei display che come lui sfruttano android e hanno android auto tanto sono universali sono uniche per per tutti questi display e sono in inglese ok vedete non ridicono molto perché in realtà lui queste queste porte non le ha lateralmente ma le ha le ha sopra però vi assicuro che è molto intuitivo da utilizzare c'è la lingua italiana quindi non c'è neanche bisogno di scervellarsi a tradurre non abbiamo visto la dash cam ecco vedete la dash cam che attenzione registra solo se qui è presente la sd quindi se qui non è presente la sd la dash cam è solo per 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 bellezza non non registra vedete nessuna card se invece inserite la card allora qui potete gestire la registrazione sulla sulla dash cam ricordo sempre che spegnendolo di ritorno ad essere uno specchietto retrovisore adesso possiamo anche tornare al menu principale quindi amici è un prodotto sicuramente innovativo perché anni fa questi specchietti retrovisori magici non c'erano sul sul mercato ora sono usciti ce ne sono di vari di vari tipi questo non mi sento di dire né che sia il migliore né che sia il peggiore il display è buono la il software è molto semplice molto rapido però nella sua semplicità ma anche ad esempio il play store alcuni di voi vogliono utilizzare anche netflix anche youtube su questi su questi specchietti e questo non fa non fa per voi vero è però lui che ha un prezzo contenuto se lui se voi invece volete anche che abbia android che abbia il play store dovete spendere il doppio o il triplo e poi a volte magari hanno solo due gigabyte di ram e anche quindi la resa di android non è ottimale quindi se per forza volete lui vedere youtube e netflix spendete il più possibile e arrivate a 4 giga di ram perché se voi spendete poco più ma poi avete solo due giga di ram o un processore unisoc poi la gestione sarà pessima quindi lui costa poco è veloce quello che fa lo fa bene se volete funzioni in più preparatevi a spendere molto più perché altrimenti le funzioni saranno sulla carta ma poi non saranno quelle quelle reali percepite io direi che abbiamo che abbiamo detto tutto vi metterò in descrizione il link se avete delle domande me le potete fare nel box dei dei commenti ciao a tutti